La curva dei contagi si conferma in calo nel Sannio con 236 nuovi casi nelle ultime 24 ore a fronte dei 276 del giorno precedente. Ma aumentano di nuovo i ricoveri nei reparti Covid del Sampio di Benevento, 5 in più nella giornata di ieri, una dimissione. Purtroppo si registra anche un altro decesso, non ce l'ha fatto una 89enne di Benevento e sale a 60 il dato dei pazienti in degenza presso il nosocomio Sannita. Intanto, a due anni dall'inizio della pandemia, l'Università degli Studi del Sannio avvia l'indagine sugli effetti della pandemia e della DAD che coinvolgerà le scuole del territorio. Quello della DAD è stato ovviamente un fenomeno importantissimo in questi due anni che ci ha consentito di far fronte all'emergenza, ma è stato anche un momento nel quale abbiamo visto emergere tutte le difficoltà del fare didattica da remoto. Noi abbiamo voluto lanciare insieme all'associazione Studium una indagine per capire quali sono gli effetti di questo fenomeno. Indagine che sarà realizzata in collaborazione con l'Università di Salerno e che si rivolge non solo agli studenti ma anche alle famiglie. Cercheremo di capire semplicemente quali sono gli strumenti che sono stati utilizzati, come sono stati utilizzati, come si è fatto fronte a difficoltà tecniche che qualche volta hanno accompagnato l'uso degli strumenti. Cercheremo di capire anche come i ragazzi da un lato, le famiglie e gli insegnanti hanno vissuto questo periodo. Cercheremo di capire